ok ragazzi e benvenuti di nuovo in questa terza parte di The Walking Dead il presoglio 1, un nuovo giorno ci eravamo lasciati con Sean che ci aveva detto che suo padre potrebbe avere bisogno di aiuto nel fianile andiamo a vedere se cosa ha bisogno allora allora andiamo a vedere se ha bisogno di aiuto magari non so cosa volevo so solo che sta ascoltando il terreno ed è il terreno e il fieno con la bacchetta questa qua andiamo andiamo se vuoi Arshal andiamo a vedere se non ci eravamo con Kenny oggi 20 anni fa, io ora cazzo mio, 20 anni fa ancora aria nascere, forse, no, c'è stata una viva, eh che crede, per se è stupido, si è tutto minchia, i miei genitori sono a me con il mio fratello, e lo spero anch'io, e ora hai questa piccola figlia a prendere, Clementine, è che? Hai apprezzato sull'occhio? Certo, certo, non so chi sei e cosa hai fatto, è certo, non so chi sei e cosa hai fatto, tu, tu testa dei minchia, si, tu testa dei minchia, lo so, lo apprezzo anche, lo apprezzo molto, che tu mi dai quel testo, non so Ock, come choose, faccia di me, come나� according to questo, non so Ed, quello ci essere successo è, sei sora c'è ora, guarda, lo amico un' lerno, guarda, non so l'ho, ho dato la ricca, lo scoppia, fareci la ricca in sotto il le troppo, vai tu, comeuela, destination oh no oh che sto mangiando oh no oh che sto sanno io sto mangiando pezzi di me io sto mangiando oh no oh no oh no è morto poverino poverino è morto mi rispetto tanto io ho fatto il mio possibile ho dovuto risalvarlo ma questo pezzo di imbarra qua è scappato ora lui si vuole vendicare ora forse se la prende con no con lei con Kenny ma è giusto la colpa di Kenny non so poverino e poi ce ne andiamo ce ne andiamo tu morerai con lui però ricordatelo tu è un pezzo di merda eh perché eh perché mi aiutate a spingere a tua vivora a vedere ma già non ho scappato con il tuo figlio tu non ti resta con il tuo figlio è un pezzo di merda casino tu non lo so tu non la cosa tu non la cosa non la cosa no la cosa non la cosa e non possiamo dare la gente morir other when i see that those stay shut no matter what i fucking mean it if we don't know who the people are it could be dangerous worse they couldn't let them right to us where the hell is your humanity they would have died out there then we let them go okay Ok Non ha torto E non l'apprezziamo Ora cambiamoci Non è stato morso L'ho visto io Dove passare sul mio corpo Non è stato morso 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 E veniremo Che è detto Non è stato morso Non è stato morso Non è stato morso E' un uomo E' un uomo Non è stato morso E' un uomo E' un uomo E' un uomo E' un uomo Non è stato morso Non è stato morso Non è stato morso Non è stato morso E' un uomo la tua lealtà oh no vi sto usando Clementine no grazie dell'aiuto ragazzo me la sono vista brutta meno male che è una bella mira si so bene se non era per te orivo stronza oh cristo santo Clement si ricorderà che l'hai protetta ti proteggerò sempre Clementine ricordatelo perché sono qui proteggerti che ti spaventi tu ti spaventa ah non lo so ma sai dove cosa cosa sia siamo quasi morti il cuore mi è morto di cuore poverino quale è questo è il cuore è il cuore è il cuore è il cuore io prendo dietro il bambino dove sono le pillole dai cosa cerchiamo attraverso l'ufficio come sei cosa potessi ragionata ma non importa devo prendere dallo mio padre tutti dovevano mettersi comodi se con questa cosa avuto potremmo rimanere dentro per un po' mi sembra che questa mamma c'era un zio la giornata non esattamente non esattamente non esattamente posso suggerirci se vede più che inizia possiamo andare a cercare tutto l'aspetto non ci prenderemo non ti preoccupare prima dobbiamo andare a prendere le pillole per il cuore del padre di dell'illeri come si chiama quella cazza di stupida ok sarebbe grandioso andiamo andiamo fuori dai sono noto che su solo farei ok andiamo e tu? qual è il tuo nome? è Lily mio padre è Larry guarda un buon occhio questi ragazzi lavoreranno a prenderti la tua medicina è vero e tu? guarda un occhio a quella fronte tu sei il nostro è Doug ho capito e io sono Carly ok Carly tagliando tu devi dare il cambio del dato quando ne hai bisogno adesso riposati poi comicio di nuovo capito? meh io lo lascio morire questo bastardo da trucche pillole ok ragazzi questo conclude la terza parte di The Walking Dead episodio 1 è un nuovo giorno E ci rivediamo alla quarta parte E non so quando lo farò Perché adesso ne ho fatte 3 di seguito E Questo è tutto da me MrWolpix97 Ci rivediamo alla quarta parte Di The Walking Dead Un nuovo giorno Ciao ragazzi